Ancora buon sabato a tutti amici del canale YouTube, rieccoci con un nuovo video, rieccoci con un nuovo contributo Parliamo di giovani, parliamo di giovani perché sono il presente e il futuro del Milan Il Mian ha tantissimi giovani bravi, tant'è vero che il Mian ha il record di under 21 fatti esordire nel corso di questa annata Non dimentichiamo, il Mian è la prima squadra in Italia ad aver fatto giocare 7 giocatori under 21 Non è un qualcosa da poco, vuol dire che c'è materiale su cui lavorare nel presente ma anche nel futuro E c'è un ragazzo più di tutti che ci colpisce, ci ruba l'occhio, ci sono tante speranze nei confronti di questo giocatore Parliamo di Francesco Camarda, Camarda non solo si sta mettendo in mostra in questi mesi con la maglia del Mian La maglia rossonera sia della primavera che della prima squadra Addirittura stabilendo il record in Serie A di giocatore più giovane ed esordire nel massimo campionato italiano Ma lo ha fatto oggi anche con la maglia della nazionale Quindi non è solamente un Camarda che segna al Mian perché si sente nel suo ambiente E un Camarda che segna anche con la maglia dell'Under 17, con l'Italia Under 17 Che ha battuto 5-3 il Belgio e Camarda ha segnato una bellissima doppietta Quindi giocatore davvero importante per il futuro dell'Italia, della nazionale Ma anche e soprattutto del Milan essendo un gioiellino del settore giovanile rosso-nero A proposito di settore giovanile rosso-nero sappiamo benissimo anche che il Mian è ancora in piena corsa nella Youth League Dopo aver battuto il Real Madrid sfiderà il Porto, abbiamo anche le date La semifinale di Youth League, la primavera di Ignazio Abate Si giocherà il 19 aprile a Nyon Alle ore 14 c'è Olympiacos Nand Mentre alle ore 18 il Milan contro il Porto Quindi Porto-Milan ore 18 delle 19 aprile La finale, eventuale finale, se il Mian dovesse superare questo turno Si giocherà invece il 22 aprile sempre a Nyon Con la vincente naturalmente delle due semifinaliste Ma l'orario è alle ore 18 Quindi se il Mian dovesse superare il Porto e andare in finale Tra una tra Olympiacos e Nantes sfiderà in finale E purtroppo l'orario non è proprio favorevole Perché si gioca praticamente due ore e mezza prima del derby di Milano Fissato lunedì 22 aprile alle ore 20 e 30 Quindi sostanzialmente non è proprio un orario Diciamo comodo per dare il giusto peso ad un eventuale finale Però innanzitutto vediamo se il Mian passere il turno Tutto questo perché? Perché comunque c'è un protagonista che è Francesco Camarda Sappiamo bene qual è la sua situazione in questo momento Un Camarda che deve firmare il suo primo contratto da professionista Lo può fare in qualsiasi momento Perché comunque ha compiuto 16 anni Al massimo può firmare un triennale L'idea del Mian è far firmare il contratto a Camarda a luglio In modo da avere altri tre anni pieni Quindi luglio 2024 Per far scadere il contratto al 30 giugno del 27 Altrimenti verrebbe conteggiato anche quest'anno L'anno corrente 23-24 E praticamente il giocatore perderebbe un anno È un'idea, è una strategia che il Mian vuole usare Però attenzione, lo diciamo sempre Ci sono comunque in agguato club importanti in Europa Soprattutto il Borussia Dortmund Che vorrebbe mettere le mani su questo talento straordinario del Milan Il Mian sa cosa deve fare Il Mian lo sa bene cosa deve fare Deve aumentare un pochino la proposta economica al giocatore e al suo entourage E trovare l'accordo Eventualmente prospettare un programma di crescita importante per Camarda Per esempio, ecco, un altro argomento di questo video La seconda squadra Cioè la squadra Under-23 Se il Mian mettesse in piedi il progetto Under-23 A quel punto Camarda avrebbe un programma di crescita E una strada tracciata ancora più definita Perché dopo l'avventura in primavera Potrebbe fare l'avventura in Under-23 E poi in prima squadra gradualmente Poi ovviamente se c'è necessità Come è successo in questa stagione L'allenatura della prima squadra Attingerà dalla primavera o dall'Under-23 Questo è normale Ma a proposito dell'Under-23 Vi ricordate il nome di Chirosky Questo dirigente che era nel Los Angeles Galaxy ai tempi di Ibrahimovic? Ebbene lui potrebbe essere la figura dirigenziale Che potrebbe a questo punto guidare l'Under-23 Non è ancora definito, non è ancora fatto Però al momento le indiscrezioni portano verso questa strada Se il Mian riuscisse ad iscrivere la sua squadra in Serie C Ma dipende però dalla non iscrizione Dalla mancata iscrizione di una delle attuali squadre in Serie C Allora a quel punto Chirosky potrebbe davvero essere Un dirigente da inserire nell'organigramma Per aiutare Vergine Che è il responsabile del settore giovanile Per aiutare il direttore sportivo Dottavio Insomma per aiutare un po' i dirigenti attuali C'è da dire che arriva un elemento come Chirosky Arriverebbe, usiamo il condizionale come Chirosky Che sostanzialmente non ha mai fatto il dirigente in Italia Ed è tutt'altra cosa rispetto a farlo negli Stati Uniti d'America In Italia sappiamo bene come funziona Ci sono i procuratori, le famiglie da convincere Strategie di mercato e logiche di mercato Che sono completamente diverse rispetto agli Stati Uniti Quindi il Mian sa bene cosa fare con Camarda Deve assolutamente blindarlo per evitare uno scippo Da parte dei club europei Soprattutto il Borussia Dortmund C'è anche il City sul giocatore Però il giocatore non può andare a giocare in Premier League Finché non è maggiorenne Quindi questo potrebbe essere un fattore a vantaggio del Milan E poi c'è l'argomento della seconda squadra Dove la società sta lavorando Per creare le basi della squadra Under-23 A proposito di squadra C'è un ragazzo che viene definito al Milan Un uomo spogliatoio, un uomo squadra Cioè Yassin Adli Avete visto e avete letto tutti L'intervista che ha rilasciato sia a Sport Week Sia al podcast del Milan Yassin Adli che ha cantato anche la canzone della Curva Lo trovate sui social per esempio di Milan News Lo abbiamo messo col permesso del club rossonero Ma c'è anche una frase che lui ha detto nella sua intervista E che riguarda Paolo Maldini e l'incontro con Paolo Maldini Io vi leggo la domanda e la risposta di Yassin Adli Per concludere questo video Perché secondo me merita La domanda è quali sono stati gli incontri più incredibili della sua carriera Carriera ancora giovane perché comunque lui è ancora giovane Ha giocato nelle giovanili del PSG Poi ha giocato al Bordeaux e al Milan Però sostanzialmente è ancora molto giovane Ma quali sono stati gli incontri incredibili della sua carriera E lui dice Il mio procuratore Con lui ho un rapporto incredibile È come se facesse parte della mia famiglia Lo ascolto come un grande fratello Quasi un papà Poi Paolo Maldini Il suo incontro mi ha fatto crescere Mike Mignan Mi ha dato tanto Però penso che tutte le persone che incontri sono importanti Non voglio essere banale Ma hai sempre da imparare da chiunque incontri Per questo devi avere sempre gli occhi aperti E le orecchie pronte ad ascoltare Perché anche se a volte pensi che non hai più nulla da imparare Invece c'è sempre da imparare E poi insomma Chiude facendo una citazione Dell'Islam Che gli ha fatto imparare tante cose Lui inserisce Nei tre incontri più incredibili della sua carriera Paolo Maldini È stato comunque importante per la crescita del giocatore L'incontro con l'ex capitano La bandiera del Milan Paolo Maldini Ex dirigente Poi inserisce ovviamente il suo procuratore E anche Mike Mignan È bello che cita Mike Perché comunque è un leader dello spogliatoio È un giocatore che tutti ascoltano È una persona che fa bene lo spogliatoio del Milan Fa crescere, fa alzare il livello e l'asticella Dell'attenzione all'interno dello spogliatoio del Milan Quindi è bello che Adli abbia citato sia Maldini Ma anche Mike Mignan E poi ovviamente ha parlato di tante altre cose Come la sua disponibilità Di mettersi sempre a disposizione del Milan E della squadra Sia che giochi sia che non giochi Questo è molto bello Io vi saluto, vi ringrazio Vi auguro ancora un buon sabato Un buon fine settimana Ciao a tutti Ciao